Domani, giovedì 19 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, si svolgerà presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli un incontro formativo sull'utilizzo della biblioteca digitale Media Library Online. L'incontro, aperto agli operatori bibliotecari e a tutta la cittadinanza interessata, consentirà di apprendere le modalità di intenzione con la piattaforma e guiderà è presente l'utilizzo delle funzionalità previste, download degli e-book, accesso alla lettura di quotidiani e periodici, prestito digitale, app, audio e libri, musica. Tutti i partecipanti potranno anche immediatamente registrarsi alla piattaforma per poter accedere gratuitamente, anche da casa, ovunque si trovino, ai contenuti. Media Library Online è il nuovo servizio attivato presso la Biblioteca del Comune di Agropoli, un progetto innovativo per il quale la città di Agropoli si vanta di avere il primato in tutto il Cilento. Ai fini della crescita della biblioteca civica non si può dimenticare poi la convenzione stipolata tra il Comune di Agropoli e il Liceo Gatto per un progetto di condivisione di risorse documentari digitali, traente scuola, insieme per promuovere la cultura e la lettura. Al termine dell'incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Grazie. Grazie.